Si è svolta questa mattina la tanto attesa riunione convocata dal Comune di Teramo tra l'amministrazione comunale e la ditta incaricata alla gestione dei varchi che delimitano il centro storico di Teramo. Un incontro importante, sottolinea il primo cittadino Maurizio Brucchi, che risolverà i tanti problemi che sono emersi dall'installazione dei varchi elettronici. Abbiamo raggiunto un accordo e questo era già nelle cose, però oggi abbiamo definito anche le modalità del rimborso, per cui la ditta risarcirà il Comune per quanto riguarda le multe non dovute e poi i cittadini verranno risarciti e questo avverrà entro la fine dell'anno. Poi si apre tutto il discorso invece del Comune nei confronti della società per tutta una serie di altri aspetti, che però avremo qualche settimana in più di approfondimento per arrivare poi a quello che deve essere il componimento di tutta questa situazione. Io ho ribadito che è innegabile che in questo avvio di nuovi varchi dei problemi ci sono stati, è inutile fare come lo struzzo che metterà se sotto la sabbia e anche loro lo hanno riconosciuto. A oggi i varchi sono controllati 24 ore su 24 da remoto, sono stati tutti verificati e quindi problemi non ce ne dovrebbero essere più. Abbiamo chiesto di posizionare un orologio e entro la fine dell'anno verrà posizionato un orologio in modo che il cittadino potrà vedere e leggere l'orario in cui entra, in modo che non deve stare a guardare il proprio orologio e magari che può sfalzare di un minuto o di due minuti e quindi vedersi poi arrivare una sanzione. Le cause sono state diverse, sono stati sbalzi di tensione, sono stati problemi di energia elettrica, sono stati problemi anche di alimentazione per quanto riguarda le linee telefoniche, insomma diversi problemi.